Non avendo il sedile né il tempo, dovrei mettere qualcosa per la dinocca. Prendimi il padre, se non trovo il sardegno. Dai, è quasi statico. Mi prenderò quasi... Oh, si denta! Mettete il ciclo di culo. Dai, Fabio, tira un eschimo, dai! Devo vedere se non c'è un po' l'armo. È una giocata, però. Devi ginocchia. Eh, manca... Io ti provo, ma se non viene, non potete me le farlo. No, cancello, dai! Un bravo istruttore, deve saperlo fare, anche senza kayak. Senza kayak, che facile! Marco, ti piace come linea? Bella linea! Quella patto, tipo. Cavolo, avvisa? Viene pure! Vai, vai! Vatta! Eh, è un tiro! Perché non... È un tiro! Non è il tiro! Non è il tiro! Sì, davvero? No, è il tiro! il mio preferito resta quello di chi a me questo è il più spesso, non è il copo non è niente ma come ho dato questa idea? è il modello l'altro vai 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 bravo oh fate un giro vedi cosa ne pensi si si adesso vale le calzate le abbiamo fatte dai il parere di un istruttore è fantastico è fantastico è un giro quasi 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 non è un'esercizio non è un giro ho fatto un po' di una senza feggio lì senza i fricotti io lo voglio portare in capo in serio guardate per quanto l'uomo siamo in giro guardate per quanto l'uomo guardate per quanto l'uomo guardate per quanto l'uomo non è vero niente anche per quanto l'uomo è bevuta quel giorno bastardo Questa pagagliata è fatta? 20 Si ma quando lo vedo in acqua è orgasmo, allo è stato buco Questa pagagliata è fatta?